Prove da sforzo. Da novembre fuori uso l'apparecchiatura in dotazione all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì e ai cittadini non resta altro da fare che rivolgersi ad ambulatori privati. Già inizio dell'anno il direttore sanitario della struttura Giuseppe Augello aveva assicurato che la questione si sarebbe risolta rapidamente promettendo inoltre il noleggio di un macchinario sostitutivo. Promesse mancate dato che il tapirulà che serve a effettuare gli effetti sotto sforzo sul cuore è ancora inutilizzabile. Ma i problemi dell'ospedale di Canicattì non si fermano qui come denuncia l'ex primario di chirurgia del nosocomio di Contrada Giarra il dottor Michele Ricotta. C'è un aspetto che anche il comitato civico pro ospedale di Canicattì che è guidato da Castellano evidenzia sempre la sala operatoria. Questa struttura ospedaliera ha tantissimi locali che non sono utilizzati e quando è stato progettato è stato progettato con due sale operatorie. Perché negli altri ospedali si sono aperte le sale operatorie nuove e rinnovate e qui a Canicattì ce n'è soltanto una che naturalmente viene condivisa da tutti i reparti? Beh questa è stata una piaga da sempre dall'inizio da quando io sono arrivato esisteva solo la sala operatoria dell'ostetricia e noi abbiamo sempre operato e chi ora poi mi ha sostituito ha continuato a operare nelle sale operatorie dell'ostetricia dividendo i turni. Mentre invece quella sala operatoria che era nel piano nostro al terzo piano benché fosse già quasi pronta non solo ma è stata già diverse volte attrezzata non è stata mai aperta perché la politica è mancata in questo senso. Cioè c'erano i soldi c'erano gli investimenti hanno comprato il materiale quel materiale è stato utilizzato per l'altra sala operatoria piuttosto che per aprire quella nuova. Cioè sono di quelle cose che nessuno ha cercato di difendere e soprattutto di far condividere alle varie amministrazioni che ci sono state. In termini percentuali la responsabilità che questo ospedale non va avanti è del 70% della politica del 30% dell'Asp o ci sono percentuali diverse secondo lei? Guardi è difficile fare delle percentuali qua l'ospedale va difeso soprattutto dagli abitanti da quelli che sono diciamo gli utenti dell'ospedale. Se si considera che l'ospedale di Canigatti ha una popolazione attorno e che lo utilizza di più di 100.000 abitanti e in realtà poi questo non si vede che l'ospedale di Canigatti per quello che riguarda i vari reparti per esempio l'ostetricia faceva più di mille parti all'anno. Attualmente credo che ne faccia intorno a 700. Ebbene l'ostetricia non è che sia stata mai difesa. La chirurgia è stata sempre quella che rispetto alle altre chirurgie non solo dell'agrigentino ma di Caltanissette e N era quella che per quantità e qualità faceva interventi superiori rispetto alle altre. Eppure nessuno ha difeso la chirurgia eppure la chirurgia ora perde e diventa da unità operativa complessa a unità operativa semplice. E nessuno mai ha alzato un dito. Grazie a tutti.